L'arte italiana contemporanea in mostra al Festival dei Due Mondi a Spoleto, una collettiva curata da Vittorio Sgarbi. Vediamo con Maria Barresi. La donna, assupita, pensierosa, un po' filosofa, un po' dormiente, ma mai assente, è celebrata nelle tele in rassegna a Spoleto, nello spazio del Festival dei Due Mondi dedicato all'arte. 80 i pittori presenti, giovani e sordienti, ma anche nomi di spicco come Fausto Pirandello, nipote del celebre scrittore, con le sue nature morte e tridimensionali in una mostra di arte contemporanea voluta dalla Fondazione Sgarbi. Se ci sono artisti come Samorì, come Arrivavene, come Iudice, in fondo farli vedere può essere l'occasione di capire che l'arte contemporanea ha tanti volti. A mostre del Festival, il titolo della rassegna, oli su tela e tanti volti, profili di uomini o di città, a volte in ombra, a volte giocosi, in un concentrato di vita che racconta l'attualità.